Farebbe innamorare chiunque del gioco del calcio il Lecce visto all'opera nel primo tempo di Salerno che concilia estetica, tattica ed efficacia. Il gol del vantaggio di Mancosu dopo tre minuti è il culmine di un'azione architettata con ben 14 passaggi consecutivi, senza che gli avversari riescano mai a toccare palla. Si gioca quasi esclusivamente a uno o a due tocchi, secondo i dettami di Mister Liverani, e il pallone viaggia dal settore difensivo di destra alla zona offensiva di sinistra per tornare nuovamente a destra in una manciata di secondi. L'autore dell'ultimo passaggio è Taxidis, che serve il movimento a liberarsi di Mancosu. Il trequartista del Lecce punta la porta e lascia partire un sinistro missilistico che non dà scampo al portiere Micai. Passano pochi minuti e il Lecce trova il raddoppio. Mancosu sulla trequartico stringe Mantovani ad accorciare su di lui, Palombi si mantiene largo sulla sinistra in linea con i difensori campani e con un tempismo perfetto scatta in verticale per raccogliere il visionario passaggio filtrante di Taxidis. La partita sembra in ghiaccio ma viene riaperta al settantunesimo da un macroscopico errore dell'assistente dell'arbitro, che pur in perfetto allineamento non ravvisa la posizione di offside di Hallow. Sul prosieguo dell'azione la difesa del Lecce si chiude ad imbuto ed è mandata fuori tempo da Anderson e Mantovani, che temporeggiano quanto basta prima di attaccare lo spazio a rimorchio, dove l'unico difendente leccese è rimasto e Petriccione. Ma il gol dell'1-2 è sostanzialmente indolore per il Lecce e serve solo ad aumentare il pathos e l'adrenalina nei soffertissimi minuti finali.